Grazie Presidente. Io in realtà avrei avuto una richiesta da fare al Presidente Fermi. Nulla toglie la presenza della Vice Presidente Brianza, quindi farò il mio intervento sull'assestamento di bilancio e poi mi auguro che torni tra noi presto il Presidente Fermi, al quale vorrei chiedere qualche lume, qualche chiarimento sulla Commissione d'inchiesta per quanto riguarda Covid-19. Visto che, è vero, stiamo cominciando a discutere di assestamento di bilancio, però rimane ancora lì appesa una Commissione d'inchiesta che tanto più riapre la necessità di discuterne il fatto che il Vice Presidente Piazza ha rassegnato le sue dimissioni. Però chiudo la parentesi e attendo il Presidente Fermi per affrontare questo argomento. Sull'assestamento di bilancio basterebbero i numeri. Muove 14 milioni di euro su un bilancio globale di Regione Lombardia di 24 miliardi di euro circa mal contati. 14 milioni su 24 miliardi. Di che cosa stiamo parlando? Per utilizzare un gergo europeo vorrebbe voglia di dire che stiamo parlando de minimis, cioè proprio di quisquilie. Cioè siamo di fronte a un assestamento di bilancio che per anche alcune delle motivazioni che il relatore Colombo ci ha enunciato poco fa è veramente un assestamento di bilancio poco confacente a quelle che dovrebbero essere le aspirazioni di Regione Lombardia e anche a quello che è il ruolo di una Regione come Regione Lombardia. Sinceramente ci saremmo aspettati che al di là di tutti i vincoli che oggettivamente ci sono e che piano piano potremo superare nel rapporto con il Governo e nel quadro anche dell'ambizioso programma che ha varato l'Unione Europea e che dovremo capire un po' meglio nei dettagli. Ci saremmo aspettati però una Regione Lombardia più coraggiosa e più capace di indicare una strada ai Lombardi intesi come cittadini e intesi anche come imprese lombarde. Quello che vediamo invece in questo momento è la fotografia di una Regione che ha accusato un colpo durissimo con l'epidemia di Covid-19 e che non si è ancora ripresa, non si è ancora ripresa anche dal punto di vista della propria capacità di guardare al futuro e indirizzare il futuro in una qualche maniera. Quello che vediamo non è un piano Marshall come pomposamente il Presidente Fontana ha tentato di far credere ai Lombardi e anche a noi. Quello che vediamo è un tentativo di gestire in maniera ragionieristica un'ordinaria amministrazione che è fatta di richieste ordinarie da parte dei Comuni, legittime, da parte dei Comuni e dei vari territori che vedranno probabilmente impiegare le uniche risorse che Regione Lombardia è stata in grado fin qui di mettere in campo, quei famosi 3 miliardi a debito che vedremo poi quanto effettivamente atterreranno sui singoli territori. Ebbene, l'utilizzo di questi 3 miliardi, che sono l'unica notizia che abbiamo avuto negli ultimi mesi, non rappresentano un piano Marshall. Il piano Marshall, ricordo anche nelle parole dell'allora Segretario di Stato americano, era un piano che voleva restituire fiducia ai cittadini, alle istituzioni e voleva far sì che si guardasse con una rinnovata speranza al futuro. Questo asserito piano Marshall regionale non è altro che una lunga lista della spesa di opere sparse sul territorio che non hanno la capacità di dare alcun indirizzo per provare a togliere Regione Lombardia dalle sabbie mobili in cui si trova. Sabbie mobili che si sono ahimè solidificate anche con l'arrivo di questa epidemia che non ha fatto altro, oltre a provocare ahimè lutti e dolori, che portare alla luce, portare a galla tutte le magagne che questa Regione ha dal punto di vista della capacità di programmare e di guardare al futuro. Quindi un assestamento di bilancio davvero de minimis, che non fa altro che programmare delle spese che rischiano di inchiodare Regione Lombardia a progetti concepiti secondo idee e visioni vecchie, cioè già presenti sul territorio, e che non va certo nell'ottica di quello che diceva il Presidente, cioè pensare alla digitalizzazione, all'innovazione, alla capacità di dare un indirizzo diverso e più sostenibile a questa nostra Regione. Io mi fermo qui. Non merita di più questo assestamento di bilancio, che guardiamo con grande delusione e con grande rammarico rispetto a quello che una Regione come questa dovrebbe essere in grado di fare. L'abbiamo sentito anche questa mattina. È una Presidenza ed è una Giunta che è preoccupata di difendere se stessa, ma che non si prende cura dei Lombardi. Non si è presa cura dei Lombardi, purtroppo, durante questi mesi e non pare in grado di farlo neppure nel prossimo futuro. Questo ci preoccupa parecchio e ci spinge anche a fare un po' di proposte che poi i colleghi declineranno e che tentano di dare un indirizzo diverso a un assestamento de minimis, che francamente non ci sembra degno di una Regione come la Lombardia.